Sappiamo che i virus sono delle entità incapaci di moltiplicarsi autonomamente e possono farlo soltanto utilizzando l'intero meccanismo biochimico di una cellula ospite. Per questa ragione i virus sono considerati appunto dei parassiti obbligati. Nel loro caso non si parla neppure di riproduzione, bensì di moltiplicazione, proprio perché non posseggono un meccanismo autonomo per potersi diffondere. Il fago lambda, batteriofago o fago lambda, è stato molto studiato ed è un virus che infetta le cellule batteriche, come dice il nome stesso. Ha l'aspetto che vedete in questa immagine con un capside proteico che contiene l'acido nucleico, una specie di collare di tubo che serve per la iniezione di questo acido nucleico all'interno della cellula batterica. Dopo il riconoscimento, cioè dopo l'aggancio del virus alla superficie della cellula batterica avviene appunto questa iniezione, questo inserimento del DNA batterico all'interno della cellula, del DNA virale all'interno della cellula batterica. A questo punto la riproduzione o meglio la moltiplicazione virale può prendere due strade diverse, il ciclo litico e il ciclo lisogeno. Il ciclo litico prevede che il materiale genetico virale prenda immediatamente possesso della cellula ospite, ne degradi il DNA presente e utilizzi i nucleotidi che derivano da questa degradazione per duplicare grazie a degli enzimi il proprio materiale genetico. Al tempo stesso una parte di questo materiale genetico virale viene utilizzato dalla RNA polimerasi del batterio per produrre le proteine batteriche e dopo che le proteine sono state assemblate con il materiale genetico e quindi si è ricostituita l'entità virale, uno specifico enzima determina la lisi della cellula, cioè la rottura del rivestimento batterico e la fuoriuscita, chiamata anche evasione, delle nuove particelle virali. La possibilità alternativa è il ciclo lisogeno. Quando il materiale virale viene inserito all'interno della cellula batterica esso non si esprime immediatamente, bensì si integra nel DNA della cellula ospite e quando la cellula ospite si moltiplica, essa diciamo moltiplica anche il materiale genetico inserito nel proprio, il materiale genetico virale inserito nel proprio, perché ormai non è più distinguibile. In questo modo il virus si diffonde in una maniera subdola, diremmo, all'interno della colonia batterica e quando determinate condizioni ambientali ne determinano il passaggio dal ciclo litico al ciclo lisogeno, il materiale virale si distacca da quello batterico e riprende il ciclo litico già visto prima. Ovviamente quando dico determinate condizioni ambientali uso un'espressione molto generica. In genere accade che dei meccanismi diciamo di sofferenza della cellula batterica inneschino questo passaggio, vale a dire che pare che fino a quando la cellula batterica e la colonia intera è in condizioni ottimali di vita e riproduzione, il batterio rimanga in questo modo latente. Quando invece la cellula batterica va in stress per una qualche ragione, ad esempio mancanza di alimentazione o condizioni ambientali sfavorevoli, il virus passa dal ciclo lisogeno al ciclo litico.